Inquinamento e traffico cittadino peggiorano la qualità della vita ai cittadini di Angri. L'amministrazione comunale corre ai ripari dopo anni di politica poco attenta all'ambiente. Si pensa al futuro ecosostenibile. Una delle più significative eco-proposte viene dal giovane promettente consigliere comunale di maggioranza Alfonso Scoppa, attento osservatore delle problematiche ecoambientali e già promotore di altri interessanti disegni progettuali. Scoppa ha progettato e proposto per la trafficata cittadina angrese il progetto di bike sharing, necessario secondo il giovane politico per rendere sempre più vivibile la cittadina. Un progetto che sarà presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, finalizzato al cofinanziamento, pari all'80% a fondo perduto, di investimenti volti alla riduzione di emissioni clima alteranti. Il bike sharing, traducibile come condivisione della bicicletta, è uno degli più interessanti strumenti di mobilità sostenibile a disposizione dei comuni che, come Angri, intendono poi ridurre i problemi derivanti dalla congestione stradale e conseguente inquinamento. Un vero e proprio servizio di biciclette pubbliche che sta conoscendo un crescente consenso grazie anche alla pluralità di tecniche di condivisione del mezzo che ne rendono possibile l'utilizzo da parte di coloro che non hanno a disposizione una bicicletta propria. Un'iniziativa ambiziosa e innovativa che potrebbe presto fare breccia nelle abitudini quotidiane anche losate dei pigri cittadini angresi poco attenti all'ambiente. Questo progetto di bike sharing in effetti è una cosa abbastanza ambiziosa, però è una cosa nella quale noi crediamo perché si integra con tutto il resto del programma per quanto riguarda l'occhio sensibile che questa amministrazione ha verso l'ambiente. Mi riferisco per esempio al progetto che abbiamo presentato per la provincia per quanto riguarda la riduzione, il potenziamento del ciclo integrato dei rifiuti, la zona traffico limitato e si inserisce bene in questo contesto anche questo qua del bike sharing. In effetti voglio precisare ai cittadini che ovviamente questo progetto è stato implementato in quanto si ha la possibilità, anche perché si ha la possibilità di approfittare dei fondi del Ministero dell'Ambiente che concedono un contributo pari all'80% a fondo perduto, cioè come contributo in conto capitale. È ovvio che se non dovessimo avere questi fondi dal Ministero dell'Ambiente allora si cambierà la ruta.